. 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 aere che non vedo più come mai siete sulla più due che siete tutti i beni più grossi per la vita di il patatina 4 e quello è l'unico che avrezzo patatina preti però una e due devo provare a farla devo fare un po' di zero prima per tirarsi un po' di io ho il preto e anch'io avrei bisogno di fare della robetta dopo prenderlo se vuoi, facciamo un po' di mitica se volete anche io io volevo offrirvi una più 11 con la sciamana si volentieri io anche io ho finalmente non ho più plug fall non mi sembra vero ho tirna più 12 o più 13 non mi ricordo più ma con l'hunter o? facciamo la mia che è più alta no vado? vai scusa già hai detto? ma quella con con malefica o? no no con la losimita come malefica ho profondità sanguigna e 7 se può interessare un'intermedia qual'è il primo da buttarci qua da questo? facciamo i guerrieri sarebbe? quello che conosce quello che stavamo per fare mitica con i talenti da raid? buona domanda buona domanda buona domanda per 1 a 2 adesso capisco tutta non penso che sia un grosso progetto io prima con l'h ho fatto una più 15 e mi sono dimenticato i talenti da raid le madonna che non ho tirato mi sono appena accorto che sto mettendo l'air shield su te e se sei dps grazie caro so che vuoi proteggermi cosa vuol dire? ah perchè avevo già dirio da ieri sera che gli avevo messo in raid eri stato saltato ma cosa? abbiamo fatto anche una game ah si? oddio si qua a seconda di che fai per primo ti da ma ma che dps che faccio? vecchia lenza che putenta dai sono 180 accident no ma è la malefica che fa particolare voglio mandarci qua una cassettina di ostriche dico bene? ti sei già nascosto? vedete le responsabilità come? eh come come? me l'ho sentito scusa me l'ho sentito me l'ho sentito starfall non ho neanche guardato che debuff ci sono questa settimana fortified, inspiring e i frullini fortified sono solo i mob i mob si ah meno male si infatti i boss vanno giù vanno giù alla sveletta starfall ma comunque ho notato che il pull casta anche da dietro la schiena ho i boss dietro e gli lanci i moonfire c'è un talento che ti fa castare anche in movimento ma non mi ricordo quale quando c'è starfall no? aspetta che c'è qua un si quando c'è la venite a prendere il buff non c'ho io che lo porto solo tu puoi ma come c'ho io? ma hai già fatto tu lo tiri e dopo se lo dai a tutti ah daccelo ve lo do me lo diiii sulla spalla me lo diiii si ho un pochino dai ma che fai dai non vedo dove sono adesso devo capire perchè mi ha rispuntato tutta la tutto il party sotto voodoo ah anche te hai usato voodoo? si solo che devo capire perchè oggi hai rispuntato il party di uov ma voodoo lo devi usare insieme a click no? no 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 è tipo il bot no no lo conosco voodoo perchè l'ho provato poi mi ero arenato nel tentare di sottarlo e allora ero ritornato su il bot perchè lo conoscevo meglio però avevo letto che funzionava bene insieme all'alto addon che si chiama click click è scritto no io uso voodoo io uso dispella fai tutto si e tra l'altro con lasciami col preto mi trovo bene con voodoo non so perchè col palli mi trovo bene con input e non riesco a settare voodoo chi ha pullato chi cazzo ha pullato chi cazzo ha pullato erano già da primord erano lui che ti speravano da mezz'ora ah si ah si ah si ah 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 aaaah aaaah ag ah o i brividi sulla cappella sulla spalla hai i brividi sulla spalla ma Raffa dobbiamo ascoltare tu Raffa queste cose da mezzi uomini più che altro c'è la registrazione in sottofondo ma chi se ne frega ormai anche tu ah scusate pullo? si? via si si vai dentro taburi? c'è taburi? ma no c'ho ma ci mancano 5 minuti ragazzi tirate giù il il come si chiama? il fammi vedere il nome dai con parole di banner stendardo stenda stendardo esatto mi veniva la banner inglese va bene va bene no ma è italiano no è stendardo dai cittadini veloce eh non so mica con di H no cazzo ah io sono stranamente a a brincare via no mi sono stati cittadini del locco guardate il dps di Tavio era osti e noi eravamo giù a giocare al pvp questa roba ha fatto storia posso desiderio la strada invece vado a sinistra scusa la abitudine la strada la decide un dps ti aspettiamo qui cosa fai lo stendardo versatility mi sembra eh sì movimento non li porti qua no no li portiamo laggiù perché tanto è una due portolino uiu un po' tutto cosa sono un po' troppi un pochino ah bravo perché altro c'è il problema che se iniziamo a curare non c'è una bella come se non è sia parato un totto per cento non c'è è un botto è un botto sinistra sinistra secondo me no no come viene andata a destra perfetto ci sono andata a destra la salata a destra sì 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 io anch'io sapevo sinistra destra a destra però non sono affidabile un giorno ho fatto uno ho fatto uno starfall ho preso mezza istans adesso provi anche te quello che provavano di hunter in drynor col barrazo che bello esempio con questo giro in effetti ti eviti uno di quelli che fanno i vortici non so perché l'andrea faccia l'altro ho sempre fatto questo invece andrea fa sempre quell'altro però becchi due volte i vorticosi eh ma questo qua è vorticosi? magari vi interrompete e non fanno due vortici e io uno lo interrotto adesso dipende eh eh dalla fortuna io sono in cd aiuto 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 ma sempre da mia parte si girano sì esatto infatti mi ho buttato giù porca caccia niente non c'è verso che ti aspettiamo un Maria Rafa arrivo cur 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 eh c'era in cooldown e non blinca c'è il culo di piombo questa qua ho che non blincare per te dove non devo è arrivata? è arrivata sì sì facciamo andare intanto sono in volo come in volo? tra un portare ah in volo tra un portare così appena arrivi qua ecco l'altro vortice ti attende un altro vortice che ti spari in faccia sua uno arrivo adesso c'ho paura perché è un bel dire stai di dietro ma si volta sempre stuprutto maledè si è muerto non ho già finito la caramella il boss più gnagno gigione vado? aspetta aspetta guarda non siamo tutti dentro vai vai si c'è nulla da fare questo posto arrivo ti attaccia la caramella ti attaccia la caramella non vedi tutte le stelline ciao bella suomo ciao davide quello che piace tanto la rampa catenoso quello che è salato uno di quelli che è salato quindi li vanno interrotte il cane ho quell'altro da interrompere ma morirà prima campionino sto cominciando a capire da la rotation del pollo quello di wittering cosa stelle non è testimoniato le necroni non c'è Grazie a tutti. Ah, quello di Marty Hammer. Sì, quello di Marty Hammer. È troppo forte. È il mio nuovo idolo, Marty Hammer. Tra lui, Merlunza e Nanoworld che hanno fatto la canzone sui Capitani Filus. Sì, è troppo forte. Con tanto di versione tedesca. Meravamo ben io. Giravamo intorno al Mobone. Non sono io che gracchio questa volta. No, I got it. No, I got it. Meno 5 HP. Che cazzo è? Che spruzza. Non andare troppo in là che... Eh, ci sono un pari nascosti, sì. Vieni qua piuttosto. Sì, prendi tutto. Ci sono scappati tutti. Guardatela. Ho visto lui che cominciava a girare e tutti che non hanno accaccato manco di pezza. E finivano di qua. Ma questi vanno un po' dove vogliono loro o sbagli? Guarda, sono... Sono una cosa imbarazzante, questi. Non sono portabili. No, infatti ho visto che vanno via che è un piacere. Ho visto che l'Hiller non dispella, mi dispellerò da solo. Sono chiamato. Il mio dispello è tarocco. E allora? Vergognati. Mi dispellerò col mio dispello. Vado? No, ci mancano un per cento. E adesso quanto ne ha nel mezzo? Eh, andiamo a prendere il fantasmino, dai. No, ma il boss lo dà, eh? No, il boss lo dà, eh? No, il boss lo dà. Anch'io so che il boss non dà mai niente. No, il boss lo dà. Vai, vai. Vediamo. Secondo me, no. Non ha mai dato niente, ma nessun boss ha, credo. Allora, gli altri del boss. Eh, ah, forse quelli, forse quelli. Non nemmeno. No, c'è, probabilmente c'è da andare a prendere un fantasmino. No, ecco, l'orridoio all'inizio. Eh, perché l'abbiamo schippato qualcuno, effettivamente. Forse dovevamo fare il... Hai visto? Io stavo zitta per scaramanzia. Aspetta, eh. Arriviamo alla fine. Ecco, fatti, tu hai star zitto. Luca. Ecco. Ecco. Proprio quando stavo castando. Vediamo. Ah, evitate. Vuoi dire che l'ho preso solo una volta, stavolta. È stata bravissima. Eh, sì, solo una volta. Aspetta, potremmo smettere un'altra cosa, vera. Per farmi prendere un'altra volta le catene. Esatto. Aspetta. Vedi, Davide, che non dà niente. Nel boss, negli asini. Eh, non bisognava uccidere il mostro cagatore. No, basta prendere questo fantasmino qua. Questo qua. Io pensavo di averli presi tutti quando sono passato... No, no. No, no, quelli due lì sono di pulli. Forzatamente non... Ok. 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 Cos'è che dice Ariore di Forbastone? Carnage, non è la carneficina? Mmh, sì. Carnage è un supereroe della Marvel. Mmh. Sì. Spruzzato. Spruzzato. È quasi morto. Ah, ok, non è la mia rafforza di questo in particolare, scusate. Sì, per quello che aspettavo, non ho guardato la vita. Sì. C'è mancora l'ha fatta, c'è forse. Esatto. È già morto. Mmh, ok. Sì. Non c'è mancora l'ha fatta, 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 c'è mancora l'ha fatta. C'è mancora l'ha fatta, c'è mancora l'ha fatta. C'è mancora l'ha fatta, c'è mancora l'ha fatta, c'è mancora l'ha fatta.